Innovazione, ricerca e agricoltura sono fondamentali oggi a maggior ragione con l'avvento dei cambiamenti climatici. Proprio per questo noi siamo qui a Mezzolara di Budrio, all'Acqua Campus, che ospita due eventi importanti. Nova Agricoltura, in collaborazione con Edagricole, che si focalizza sull'irrigazione ad aspersione, ma ancora di più celebra i 60 anni del canale Emiliano Romagnolo. Paolo Mannini, direttore generale del CER, una storia lunga che sulla ricerca ha puntato in tempi non sospetti e che adesso prosegue su questa strada guardando al futuro. Il canale Emiliano Romagnolo in realtà come opere ha circa 80 anni, ma con la prima costruzione, con la prima pietra e i nostri amministratori già vollero allora di iniziare un'attività di ricerca e di sperimentazione che insieme all'acqua potesse dare agli agricoltori anche la maniera per usarli in maniera corretta e efficace, dunque con una visione molto moderna e soprattutto molto attuale alla luce dei cambiamenti climatici. Perciò oggi festeggiamo il nostro sessantesimo anno della ricerca sul risparmio idrico, che ci vede abbastanza come gruppo di eccellenza in Italia su questa materia. Abbiamo moltissimi esperimenti, moltissima tecnologia in sviluppo e di conseguenza riusciamo oggi con tutti i risultati che abbiamo acquisito in questi anni di usarli anche per il futuro. Diamo informazioni agli agricoltori sul momento preciso di interventi in riguo e sul volume d'acquata cultura per cultura con messaggini sui cellulari. Questo lo facciamo in Emilia Romagna dove ovviamente abbiamo iniziato e oggi con l'Associazione Nazionale delle Bonifiche anche nel resto d'Italia. Oggi abbiamo una giornata che è tecnologica sotto un certo punto di vista, ne abbiamo fatte altre sull'irrigazione a goccia, oggi insieme al gruppo di agricole sull'irrigazione per aspersione. Anche sull'irrigazione per aspersione ci sono stati degli miglioramenti tecnologici notevoli che permettono a questo tipo di impianti in riguo, almeno sulle culture estensive, al cultivo in pieno campo, di usare l'acqua in maniera molto corretta, efficace, precisa e di conseguenza alla luce di quello che sta succedendo in linea con quello che bisogna oggi fare, risparmiare acqua. E se tutti i progetti innovativi a partire da IERIN e TIRRI FRAME sono partiti dall'Emilia Romagna grazie all'attività del CER e di Aquacampus, poi si sono allargati a livello nazionale con una collaborazione importante con l'Associazione Nazionale delle Bonifiche. Presidente Vincenzi, un primo passo, i risultati quali sono? Sì, è proprio grazie al canale Emiliano Romagnolo che abbiamo voluto portare la sperimentazione e la ricerca che è servita a efficientare nel tempo e negli anni quello che è l'utilizzo dell'acqua. Efficienza sfocia in sostenibilità, la parola sostenibilità è una delle parole importanti e chiave anche nelle politiche di gestione dei cambiamenti climatici, in particolare pensiamo alla prossima programmazione comunitaria, in particolare nella politica agricola comune dove il ruolo dell'acqua dovrà avere un ruolo centrale ma è certo che l'efficienza e l'utilizzo nazionale della risorsa sarà uno dei temi principali che sarà al centro della politica agricola. Per questo stiamo continuando ad investire su questi progetti di innovazione grazie al canale Emiliano Romagnolo con una stretta collaborazione all'interno appunto di Ambi come associazione nazionale perché la vogliamo portare, questa esperienza, a livello nazionale a tutti i consorzi di Bonifiche. Il progetto Aquacampus è un progetto importantissimo per la comunicazione, la divulgazione di quelle che sono la ricerca, l'innovazione in agricoltura che ha avuto una liaison importantissima, un avvio nell'ultima edizione di McFruit e immagino che anche per il prossimo anno si facciano delle cose assieme. Certo, noi ripeteremo questa esperienza che è una esperienza bellissima, sono già due anni che la facciamo e il prossimo anno ripeteremo la terza edizione perché veramente, devo dire, non solo fra gli stakeholder e i produttori italiani ma a livello internazionale ha suscitato un grande interesse perché oggi il tema dell'acqua è un tema importantissimo in tutto il mondo. Stiamo festeggiando i 60 anni del canale Emiliano Romagnolo, un'opera fondamentale ma non solamente un'opera idraulica, ha anche un concetto, una filosofia di quanto sia importante la ricerca e la gestione dell'acqua. Per lei che segue sotto la visione tutto quello che è il bacino, quanto è importante per i nostri territori, per tutta la zona padana, una gestione corretta dell'acqua? Diventa fondamentale, infatti deriviamo nel bacino padano circa 20 miliardi di acqua dal fiume Po, quindi un numero elevatissimo. Naturalmente nella pianificazione la conoscenza del dato diventa fondamentale e soprattutto l'acqua deve esserci sia per i territori di monte sia per i territori di valle. Qui ci troviamo in un territorio di valle quindi molto fragile e molto delicato per due motivi, perché la risorsa sta diminuendo e quindi dobbiamo armonizzare i conflitti che possono nascere tra monte e valle e per la qualità del corpo idrico e la qualità dell'acqua. Quindi il ruolo che hanno i consorzi di bonifica, in particolare il canale Milano Romagnolo, non è solo quello di essere un vettore che trasporta l'acqua, la solleva da Po e la porta nella zona del Riminese e della Romagna, ma deve essere anche un fitodepuratore naturale, quindi un miglioramento del corpo idrico. Quindi il PIL legato all'attività dell'acqua del Po è un PIL a cui noi teniamo tanto, ma con una visione di habitat e una visione integrata di pianificazione che deve vedere le comunità più resilienti. E qui proprio sul bordo del CER, del canale Milano Romagnolo, di cui abbiamo tanto parlato, vediamo all'opera attrezzature che un tempo venivano considerate un po' con la vecchia guardia dell'irrigazione, magari utilizzate per l'irrigazione di soccorso, oggi in realtà non è più così. Stefano Anconelli del CER, con le nuove tecnologie queste possono diventare una nuova frontiera dell'agricoltura, dell'irrigazione di precisione? Assolutamente sì, abbiamo in corso diversi progetti che sono finanziati dall'assessorato attività produttive della regione Milano Romagna nell'ambito dei programmi PORFESR, dove il mondo della ricerca, quindi coordinati da noi, Canale Milano Romagnolo, con l'Università di Parma, di Piacenza, di Bologna, stiamo sviluppando dei sistemi di intelligenza artificiale sostanzialmente, che utilizzeranno i dati che possono provenire da droni o da satellite. Adesso le mappe satellitare con il programma Copernicus arrivano a cadenza bisettimanale con una risoluzione 10x10 metri quadrati. Quindi le informazioni che ci può dare il satellite sulla variabilità degli appezzamenti, sullo stato fenologico delle colture, noi riusciamo a prenderle, metterle dentro al nostro sistema di assistenza tecnica e reframe e trasferirle nelle centraline delle macchine che poi fanno l'irrigazione. In questo modo riusciamo a sfruttare le conoscenze che ci vengono dai sensori da remoto per fare un'irrigazione puntuale di precisione sfruttando l'automazione e l'intelligenza delle macchine, quindi velocità di arretramento dei rotoloni, angolo di rotazione degli irrigatori, la possibilità di variare nelle diverse zone del campo per dare la quantità d'acqua alle colture in funzione del loro sviluppo nel corso della stagione. Questo tipo di macchine comunque nel settore delle grandi colture estensive avranno sempre la loro ragione di esistere. La microirrigazione va meglio su un comparto ortofrutticolo, ma sulle grandi colture estensive non possiamo pensare di riempire il mondo di plastica e quindi sicuramente bisogna andare nella direzione di sviluppare e ottimizzare anche questi sistemi di impianti irrigui.